Ok, occhi bene aperti. Nessun problema. Quanto mi piace il gelato. Patrick, comincio a spaventarmi. Tienimi gli occhi aperti. Che penso io. Ehi, il mio gelato! Il mio gelato algecorallo. Tieni forte, Patrick. Sono spaventatissimo. Mi stanno scappando di mano. Mi scivolano via. Oh no, ci siamo persi il finale. Cosa? Un'altra volta. Guarderemo la prossima proiezione. Temo proprio di no. Questo era l'ultimo spettacolo. Davvero? Ma che ore sono? Mancò un minuto a mezzanotte. Un minuto a mezzanotte? Mezzanotte, è l'ora del pescatore! Presto, corriamo a casa! Il pescatore! A mezzanotte! L'ora del pescatore! Oh, siamo salvi! Gliel'abbiamo fatta vedere noi a quel film dell'orrore! Già, avevamo gli occhi incollati allo schermo, tranne quando proiettavano il film! Possiamo considerarci degli eroi? Beh, buonanotte, Patrick! Ci vediamo domani! Eh, un momento! Vuoi dire che dovrei tornarmene a casa da solo? No, certo che no, ti accompagno alla porta! È tutta colpa di quel film! Perché non abbiamo visto un cartone animato? Cos'è stato? Non lo so, veniva da laggiù! È il pescatore! No, è solo il piccolo Jason! E va bene, io torno a casa adesso! Solo due passi! Già, sono soltanto due passi! Tutto solo, nell'oscurità! Oh, andiamo, SpongeBob! Non è il caso di avere paura! Ti accompagno! Grazie, vecchio mio! Ma, poi, chi è che accompagnerà te? Oh, quando sarà il momento ne riparleremo! Il pescatore! Ah, che cosa sta? Aaaaaah!